I'm off my car Non so che possiamo fare qui Via 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 Mi infilo mi infilo Io mi infilo regà Leggermente caos Allora Devo riuscire a fare un parkourito Alberto moddare se n'è andato Anche lui non ce la fa più Ok via via No ma comunque si è aiutato Quell'autorampa regà A parte che i liberator devono andare in quella direzione Perfetto perfetto Ok rimettiamo l'autolave Come si deve No Alberto crew Che è successo? Grazie grazie Andiamoci I cittadini Cioè questa è la rovina di questo Face to face I cittadini Dai Grazie grazie regà Dove sono? Non lo so Non lo so regà Non lo so Non lo so Dai che ci siamo Ok grazie Perfetto perfetto Mi sa che sono rimasti solo sui gentili Meno male Meno male Fantastico Allora Prendiamo questo bel checkpoint Che è il sedicesimo checkpoint Quarta posizione Allora Allora Ballo rapido Ok Questo comunque è un face to face 9 9 9 9 9 Per cento impossibile Veramente hard Wow Ok Andiamo Andiamo No Fantaggette Che c'è Siamo ancora vivi Sì Siamo vivi Siamo vivi Allora Io vedo sempre lo Santos Guardate Spettacolare Spettacolare Ok Ah qua ce la facciamo a fare un partorito Mi rompo ce la fa Mi rompo ce la dovrebbe fare Ragà una spintarella Ok ok Piano piano ce la facciamo Orto sono carcassi E si spostano facilmente Orto lo vitaliano Quello primero Due minuti Grazie sui Orto lo sto carcassa Non molla Ok ok Sì Possiamo andare Possiamo andare Vediamo i check 13 su 22 Siamo a 26 minuti 26 Raga Mio dio Sì Olè Autorampa Questa è tranquilla Sì sì Andiamo Guardalo per cittadino No Non te troverlo su Interoccupa Sal Scusami Oh Raga Ok No Sono rimasto In trappola Aspettate Devo tornare indietro Oh le carcasse Sono tremende Sì Dobbiamo tornare indietro Aspettate Che è successo Ce la va a rigirarsi Sì 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 Ok Allora adesso Dobbiamo fare strike No Le carcasse non funzionano con l'autorampa Ok ok Sì sì Ci siamo Ci siamo Possiamo andare? Oh le ole Altri cittadini Via 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 Ok ok Questa volta è andato bene Ma quanti cittadini ci sono Raga Troppo Quinta posizione Eh ma ho superato il suino con l'autorampa Raga Allora Mini Cooper Ah non mi trolla sui Cortesemente Chi è? Alberto Il quarto Che stavi a fa Fermo sui Ah i messaggi Non lo accetto Sui Cosa? L'orbitale? No è possibile che non mi ha sentito Ah sui Libero Metrico Allora cosa non accetta Raga Non ho idea Dai di nuovo Autobus Ammesso Di nuovo Ok Aspettate Non so se è più trolle Questa gara o il labirinto Che abbiamo fatto ieri Non lo so Non lo so Non ho idea No Si è buggato l'audio Raga Aspettate un attimo Raga Pensavo che si era buggato l'audio Ma che è successo? Io stavo al computer Non lo so Non lo so Dai No si esplode Tutto Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Non lo so Non lo so Allora Sono esplosi i primeri Dei primeri No? Ma ha superato pure qualcun altro Karuz Mio dio Raga 30 minuti 30 minuti Allora Forse coraggio Abedumira no Abedumira no Buggate Sparisci Oh Ok Ok Andiamo Si può? Eh no Cioè vedete Tutta colpa di queste carcasse Raga No Ti prego Ti prego Ti prego Italiano Io sto Seppellito Raga dove sto io? No Sto andando a fuoco No Mi sa che stanno andando a fuoco Raga Vediamo No Ah nessuno ha scoppiato la ruota Zitti Zitti Forse È un miracolo No Italiano Dai veloce Veloce Passa Non è italiano Veramente sui così gentile? Grande Grande Sei un grande Sui Bravissimo Allora Aspettate un attimo Eppure il secondo Raga Guardate quanto è gentile Super Super Gentile Oh Oh mio dio Ci siamo Ci siamo Tranquilli Non vi preoccupate Oh Ok Ok C'è rimasta solo una ruota buona Ok È autobus adesso Vediamo i check Quasi Quasi Finito Il creatore ha detto Mettiamo 22 checkpoint Perché secondo me dura poco Allora I face to face Raga Anzi I creatori dei face to face C'hanno questo vizio di farli Estremamente lunghi Troppo Lunghi Non lo so Il perché Dai Ce lo faremo È un parkurito Anche a me Aspettate È tosta Sta arrivando Vitaliano Eh Sì Il trucchetto Oh Guardalo Ho capito cosa vuole fare Vitaliano Raga Credo di aver capito Eccolo Eccolo Andiamo Non so se funziona con le carcasse Dovrebbe eh Ah no su io sono senza No Non sto lampeggiando Sui aspetta 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 Ok Io non stavo Lampeggiando Ok Ok Andiamo No Ma perché a me non va No Va solo Va solo a Vitaliano No Aspettate Aspettate A me non va Andiamo E ora non va E ora non va A Vitaliano Poverino Ma solo a America Aspettate Ok Eh qua ci vuole il trucchetto Eh Per forza Vediamo un po' se riusciamo a passare Teoricamente Ce la dovrei fare Teoricamente L'italiano Al massimo Al massimo Al massimo Via Mamma mia Che meraviglia Che meraviglia Per favore Sui Ah no Tanto di andare Da questa parte Te Credo di sia Mamma mia Mamma mia Oh regali Che cazzo Italiano Grandissimo Però dobbiamo andare A prendere il check Adesso Ho usato il flash Cinque minuti Di stacco Ma ha finito Il face to face Non mi ha fatto A passare Non lo so Non lo so Un mistero Ok Altri messaggi Vieni sui Eh infatti Mi stava a scrivere Che avevo visto Che stava fermo Delaxo Per noi 34 minuti Andiamo Andiamo Sui Molle Ma tanto adesso C'è almeno 100 Il problema È che devo avviare Questa gara Con massimo Massimo 10 persone Raga 16 sono troppe Infatti Veramente troppe Allora Qua forse Ce la faccio saltare Sì Ok Questa macchina Del cittadino Ci darà una mano Perfetto Andiamo Andiamo Belli veloci Belli rapidi Ok Siamo ancora vivi Tranquilli Il check sta qui Ok Stealing GT 18 check point Quasi finito Quasi finito Come prima era 1 Che è successo A self flash Non era 5 minuti Di stacco Allora Loro sono Buggati Forse se passo Aspettate Devo andare qua Ok Premiamo R1 E andiamo avanti R1 Andiamo avanti Non si muove Nemmeno di un millimetro No Ma c'è qualcosa No Ma voglio andare Dall'altra parte Sì Di qua Di qua Oh Chi c'è Chi c'è Traini Traini Forse non esplodo No Però Sarete tutte le carcasse Mamma mia Ste carcasse Sono terribili Troppo Che fa somiglia A un face to face Che avevamo già giocato Sì Allora Ehm Non lo so Sto esplodendo Per caso No Allora Mettiamo la macchina Bene Ok Magari Riuscire a saltare Sitti Vai No Sto esplodendo Via Non t'avvicinare Sui Smostate No Via Via Scappa Ok Stai per esplodere Il suino Che mi ha dato una mano Pure te stai per esplodere Sui Ok Esploso Va finito Era Ok Oh No Questo esplode io Ok ok Siamo vivi noi Dai No Sto esplode Si sta rompendo la macchina No Eh niente Sto esplode sui Dai Sal flash Vieni qua Ah no Sal flash Vieni qua Vieni qua Dove Ok Sal Sal Come sta No Eri spavano Ok Sta arrivando pure il treno Dai Dai Ce la faremo Ce la faremo Tranquilli Non Non vi preoccupate Eh Questi autobus Qua Sono leggermente Tremendi Ok Vai sui Dai Grazie Treno Siamo vivi No 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 Dai Siamo vivi Siamo vivi Andiamo Vali veloci Vali rapidi Super veloci Questo è il diciannovesimo check Sì sì Oh Le camionerà un po' poverini Non li voglio trollare Ok Andiamo andiamo Quelli che mi hanno aiutato ovviamente Amica So gentile con tutti No Italiano Italiano Eri quasi arrivato Aspettate Aspettate Vieni 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 Vedete quanto sono gentile Anche se sto registrando Io Bisogna essere Gentili Guardalo che mi ringrazio Andiamo Allora Però c'è Un altro autobus Chi è Ho aiutato Eh mi sa di sì Oh regà Passate ora Passate ora Ok Provo a rigirarmi E respawniamo un attimo Dai Via 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 Si può Ah Sì sì Si può Si può Quanto è potente Guardalo Libro Metrico Che suino Molè Ci siamo Ci siamo Carcassa Mamma mia Ah non sta per esplode Con la macchina 10 Oh mio dio Che nuovo Questo Regà mancano solamente Due checkpoint 40 minuti Di face to face Quasi Via Via Andiamo Andiamo Chi c'è Ok ok Andiamo Andiamo Belli veloci Belli rapidi Che mancano solamente Due Checkpoint Che meraviglia Allora Stanno arrivando 700.000 Camion Rampa Va No Oh no Frena 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 Che è successo No 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 Sui Metrò lì Ah no 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 Ok Guardalo sto cittadino Emo dove passo io Eppure è sceso Che sta a fare sto cittadino Casca pure da solo Regà Che mi sposta sta macchina Dai Sali sopra la macchina E spostala Cittadino Regà io non posso andare qua Perché casco Guardalo Allora Aspettate ci mettiamo qua Ok Grazie No Sì 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 Tutto ok Tutto ok Dobbiamo pedalare Via via Guardali che mi hanno superato Regà Niente per i mera Veloce Veloce Tutti tutti sono arrivati Dai che ce la possiamo fare Finire questo Face Face Adarri a primi Non mi importa Mi importa solamente Concluderlo Regà No Non sto arrivando Cambiando Io metto per di qua Vitaliano Vitaliano Non trolla Non trolla Non trolla Non trolla Via 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 Eh questo è piuttosto Oddio Oddio Via 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 Veloce Cascato Caruz Poverino Ah il cammino Rampo è stata Da questa parte È vitaliano Devo farlo rimettere bene Che c'è da una mano Eh Via via Ok io parkurito Che sta passata Al flash Mannaggia a lui Aspettate Facciamo così Poi tipo Impegniamo E riusciamo a fare Un parkurito Treno 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 Regà Rivaniamo qua Ok un bel passaggio Un bel passaggio ci voleva Sì sì Un'altra miniatura Dai su Cortesemente Salviamo la clip Ok Chi è questo? Finne lei Ok Che impennata Che è successo? Regà non lo so Non lo so Com'è possibile? Ah lo so il flash Andiamo andiamo Ce la stiamo combattendo Questa primera No Aspettate Aspettate Via 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 Siamo primi No Non siamo primi Figira te Eh niente Ce l'ha fatta Regà Credo di sì Andiamo Sui Spostate Spostate No Ha arrivato prima lui? Sì sì Ok Ok Andiamo a concludere Mamma mia Che face Tu carissa Regà Allucinante Comunque sia Se vi è piaciuto questo Quindi face to face Con il treno Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate su tutti i canali Che trovate in descrizione E noi ci invecchiamo Al prossimo video Bello Ciao 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 Grazie a tutti.